bentornati a lampi di tesla aggiornamento natalizio cioè il 2022.44.25.1 è in distribuzione è cominciato ad arrivare anche in europa qualcuno lo sta già scaricando allora vi lascio qui il link al video in cui spieghiamo tutte le novità comunque quelle salienti sono confermate apple music confermata la possibilità di vedere dalla telecamera interna direttamente sul proprio telefono quando si lascia la macchina in sentry mode e in dog mode la possibilità di mantenere il clima in automatico ma di scegliere la possibilità della velocità della ventola low mid high quindi un impatto diverso sempre mantenendo il clima in automatico e poi una funzione che piace tantissimo a me la freccia che si disinserisce da sola nei cambi corsia quindi sta arrivando e anch'io lo attendo voci sullo stop di una settimana di produzione in cina negate avevamo già parlato anche di questo già negate da tesla ufficialmente sono state negate anche effettivamente dallo staff che lavora alla giga shanghai quindi non ci resta che aspettare i numeri di dicembre e vedere un po' se effettivamente sarà così e ora parliamo di un argomento molto interessante perché ci dà qualche spunto secondo me per fare un ragionamento allora tesla parliamo di autopilot quando tesla è uscita con la model s non aveva autopilot 2012 aveva il cruise control normale lo step successivo del 2014 fine 2014 è stato quello che viene definito autopilot 1 quindi tesla utilizzava la telecamera il radar siamo le funzioni fornite da mobili che è una azienda israeliana che principalmente fornisce questo tipo di servizi a tutte le case automobilistiche quindi una telecamera più il radar i sensori eccetera eccetera e questo era chiamato autopilot 1 ma era chiaro che con questo sistema non si sarebbe potuti arrivare alla guida autonoma quindi tesla ha deciso di crearselo in casa con appunto autopilot 2 che consiste consisteva già dal 2016 in 8 telecamere perimetrali 9 se consideriamo quella interna che è stata introdotta dopo oltre che vabbè in quel periodo c'era il radar e i sensori ora insieme a tutta la suite di telecamere c'era ovviamente una scheda con un chip interna la macchina separata dall infotainment questo è importante che gestiva appunto tutte le funzioni di guida e qui abbiamo subito una piccola distinzione perché c'era inizialmente l'hardware 2.5 nella fine 2017 e poi successivamente è stato introdotto nel 2018 l'hardware 3.0 che è quello attualmente installato sulle auto che escono dalla fabbrica bene affinché si possa usare la guida autonoma completa vedi beta negli stati uniti è necessario avere l'ultima release quindi hardware 3.0 che è una scheda con due chip proprietari tesla chi aveva hardware 2.5 e acquistava il pacchetto fsd aveva l'upgrade compreso quindi si portava la macchina al service cambiavano la scheda upgrade compreso ad hardware 3.0 c'è c'è un però tesla negli stati uniti ha dato la possibilità non solo di acquistare il servizio di fsd ma anche di prenderlo in abbonamento per 200 dollari al mese ed è ancora così nonostante gli aumenti del pacchetto completo il problema qual è è che chi aveva la macchina comunque una cerchia abbastanza ristretta perché parliamo di circa sei mesi di produzione chi aveva chi ha la macchina con hardware 2.5 quando provava andare a prendere in abbonamento le fsd sull'app gli veniva il messaggio devi pagare l'upgrade ad hardware 3.0 al costo di circa mille dollari quindi se io compro le fsd compro mi viene aggiornata la macchina compresa nel prezzo se io invece voglio le fsd a noleggio diciamo così devo aggiornare all'hardware 3.0 pagando questa cosa effettivamente ha fatto storcere il naso un po di gente giustamente dico anch'io quindi cosa è successo che uno di questi utenti ha fatto causa a tesla negli stati uniti ovviamente e effettivamente nello stato di washington quindi siatto nord ovest e effettivamente il giudice ha dato ragione a al ricorrente a questa persona perché perché comunque già dal 2016 con l'uscita di autopilot 2 con le otto telecamere eccetera eccetera tesla pubblicizzava l'hardware come sufficiente per la guida autonoma e quindi a ha diciamo obbligato tesla per questo utente a installare gratuitamente l'upgrade perché altrimenti sarebbe stata una pubblicità mendace effettivamente non ha tutti i torti il giudice che ha preso questa decisione perché nel momento in cui io tesla dico che l'hardware è già sufficiente per la guida autonoma poi mi metti a disposizione la possibilità di prenderlo a noleggio quindi 200 dollari al mese perché io dovrei pagare mille dollari per avere effettivamente un hardware che tu tesla mi stai dicendo che era già sufficiente quindi io credo che questa azione legale possa dare il via parliamo di stati uniti sempre a una a due due cose primo tutti quelli che chiedono a tesla e che non hanno acquistato l'fsd completo di avere l'upgrade effettivamente adesso hanno la possibilità di averlo gratuitamente poi tra dire il fare ovviamente questa è una causa però comunque ci sono tutte le premesse affinché tesla faccia in automatico un retrofit seconda cosa tesla molto semplicemente decide di togliere il noleggio dell'fsd e quindi lo toglie se lo vuoi lo compri e se no non lo usi io credo che comunque non ci sarà molto seguito a quest'azione perché anche quando è venuto fuori il problema con l'introduzione dell'abbonamento un anno e mezzo fa a occhio se ci sono state delle lamentele però poi il fuoco si è spento ecco ora magari questa causa potrebbe riaccenderlo leggermente però sarà interessante vedere qual è la reazione di tesla in europa in italia è un problema marginale nel senso che a oggi non c'è alcuna differenza tra hardware 2.5 e 3.0 manca qualcosina sullo schermo però non non cambia assolutamente niente per le funzioni di guida perché non c'è la beta c'è anche da dire che mentre negli stati uniti la model 3 è stata commercializzata dal 2018 e quindi ci sono più auto con 2.5 in europa erano proprio pochissime proprio le primissime distribuite proprio i primi mesi quindi sono effettivamente molto molto poche l'altro fattore che non essendoci l'abbonamento da noi è un non problema perché se voi avete l'hardware 2.5 e acquistate le fsd completo attenzione non l'autopilot avanzato le fsd completo allora tesla vi aggiorna in automatico dal 2.5 al 3 quindi è un problema che non tocca per ora l'europa però sarà interessante vedere cosa decideranno di fare negli stati uniti in canada dove effettivamente è necessaria la nuova scheda dell'hardware 3.0 per avere tutte le funzioni di guida autonoma detto questo ci vediamo per chi vuole a livorno centro commerciale parco levante uscita variante aurelia livorno sud domenica 18 intorno alle 10 esattamente come abbiamo fatto l'altra volta ho messo un sondaggio nella parte community del canale e quindi votate mi fa piacere insomma se ci siete se potete venire non importa che abbiate una tesla con qualsiasi macchina monopattino piedi bicicletta come volete voi è un'occasione per vedersi scambiarsi gli auguri magari berci una cioccolata calda ci sto lavorando niente una cosa bellina quindi ci aggiorniamo in settimana sperando che il tempo sia clemente ha cominciato a far freddino anche da queste parti un'altra cosa molto rapida ho messo insieme così un piccolo video di una ventina di secondi che vi lascio qui sopra se volete dare un'occhiata e cliccare tutte tutti i suggerimenti sono ben accetti ho voluto fare delle prove ho acquistato un nuovo software di montaggio ho provato un po il drone insomma c'è qualche evoluzione mi piacerebbe anzi farò molto di più rispetto ai soli lampi voi vedete ogni giorno le puntate qua in macchina quindi non c'è nessuna elaborazione né niente ma i progetti ce ne sono tanti e dietro le quinte piano piano ci stiamo muovendo sperando di avere un po più tempo per portarli avanti e grazie a tutti come sempre per il supporto questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao ciao